Palcoscenici il Molise in scena. Partirà il 29 novembre la serie di spettacoli organizzati dalla Fondazione Molise Cultura e dalla Regione. Quattro eventi di rilievo che per ragioni logistiche si svolgeranno all'auditorium Unità d'Italia di Isernia. Un programma ricco che è solo l'anticipo di quella che si annuncia una stagione interessante. Il programma è stato illustrato nel corso della conferenza stampa Lex Gil. Oggi presentiamo una prima parte di eventi culturali che si svolgeranno nei prossimi mesi ma soprattutto in questa stagione invernale nella prima parte primaverile del 2024. Oggi presentiamo gli appuntamenti che si svolgeranno nella città di Isernia presso l'auditorium. Poi stiamo insieme alla Fondazione mettendo sul programma che riguarderà la stagione teatrale e quindi si svolgerà nel pieno degli eventi presso il Teatro Savoia qui a Campobasso. Poi in sinergia e insieme al Conservatorio stiamo completando quello che è il percorso iniziato nell'ambito del progetto palcoscenici che invece riguarderà il territorio a più ampio raggio. Quindi sarà presente un po' in diversi comuni della nostra regione. Ecco l'auditorium di Isernia ha spettacoli di rilievo che sicuramente faranno tutto esaurito. Ma noi ce lo auguriamo che ci sarà il sold out insomma rispetto all'apertura che avverrà nei prossimi giorni precisamente lunedì. Sono degli eventi di rilievo con artisti insomma di fama nazionale e internazionale. Quindi abbiamo fatto delle scelte accurate che rispondono insomma alle richieste che ci sono anche da parte del pubblico, degli appassionati negli ultimi tempi. E la scelta di Isernia è dovuta soprattutto anche alla capienza dell'auditorium rispetto al Teatro Savoia che sicuramente rappresenta un gioiello, una bellezza unica per la città di Campobasso e per la nostra regione. Però 300 posti in più rispetto alle richieste che immagino ci saranno sicuramente ci mettono alle condizioni di poter dare una risposta maggiore. Si partirà il 29 novembre con Enrico Brignano con lo spettacolo Ma diamoci del tu. Il primo dicembre sarà la volta di Patty Smith in tour, l'otto dicembre di Pio Amedeo e chiude il programma e il concerto di Edoardo Bennato il 15 dicembre.